L'Associazione Italiana Calciatori non ci sta. La regola che prevede l'utilizzo di calciatori dai 25 anni in giù perché le società possano accedere ai contributi federali continua a far discutere. Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha minacciato lo sciopero con possibile slittamento della prima giornata di campionato in Lega Pro, ma ha esteso il problema anche ai giocatori di Serie A e B perché, se non oggi ma domani, potrebbero ritrovarsi nelle stesse condizioni dei calciatori e colleghi che nel pieno della maturità potrebbero trovarsi senza lavoro. E la protesta dei giocatori si sta estendendo a macchia d'olio. Ieri, durante la sfida tra i disoccupati dell'equipe campania e la Paganese, gli atleti della formazione allenata da Luciano e Luis Landini hanno esposto uno striscione di dissenso nei confronti della regola, in particolare contro il numero uno della Lega Pro, Mario Macalli. Uno striscione non passato inosservato e commentato così da uno dei responsabili dell'AIC in campania, Antonio Trovato. Come stanno? Stiamo girando per gli spogliatoi per quanto riguarda la Lega Pro, dove giustamente siamo da parte dei giocatori, ci sta praticamente un netto rifiuto per quanto riguarda questa proposta di Macalli, che sinceramente è una cosa assurda, quindi in questa settimana sicuramente si saprà molto di più. Ultima battuta, voi siete pronti a scioperare nel caso in cui non venga cassata questa norma? Da parte nostra sicuramente, infatti nelle tantissime iniziative, addirittura anche su pagine che sono state fatte dagli stessi giocatori, perché vedi proprio oramai sono tutti i calciatori che hanno capito di scendere in campo e opporso a questa legge, perché sinceramente è una cosa che si è passata, è una cosa assurda che provocherà sicuramente tante situazioni di calciatori che si ritroveranno senza squadra e sinceramente è una cosa assurda che non esiste assolutamente.